Sì, ma quant'era la fiamme a loro? Pagno, non sono pagato pagno. Possiamo fare foto, maestro? Sì, foto, video. Penso che ho avuto da ragazzino, ero con mio papà, lo racconto spesso, e lei fa i filmati. Stavamo mangiando una nostra specialità, la caldume, no? La? Caldume. E poi... Ah, qua, Roma. Ah, qua, Roma. Vabbè, due picciotti è giusto, io lo dico in italiano, la caldume. Quando veniamo siamo andati in un posto di bere, due e mezza birra, e ci faccio, papà, se no facciamo una cosa no, non ne voglio indire. Non ne voglio indire, non ne voglio indire, non ne voglio indire, non ne voglio indire. Non ne voglio indire, non ne voglio indire. Non ne voglio indire, non ne voglio indire. Per regola di vita. Tutti... A mio amma, non ne voglio indire, se chiede con mamma, mi ruva a me. A mio amma, devi dare nella vita, non devi tolle. Ora si vede l'istrinto buono dell'amico, se ne voglio un posto di chiodo tu.